Buongiorno a tutti, allora è il giorno della Universal, quindi sveglia alle 6.20 perché c'è l'early, va beh, l'è entrata un'ora prima al parco di Harry Potter, quello nuovo e andiamo subito a fare colazione, io purtroppo ho lavorato fino a tardissimo al vlog di San Francisco per pubblicarlo, ma ovviamente c'era un errore, quindi è stato tutto inutile e stamattina ho dovuto rimetterlo a farlo e ci facciamo una colazione gigantesca, così tiriamo avanti il più possibile anche perché dentro al parco, se non ricordo male, costava un patrimonio eccoci finalmente abbiamo ordinato tutti da mangiare e siamo venuti al bancone invece che al tavolo per farla più carina oggi, neanche a farlo a posto il pane di Edo che consiste in cereali con latte e poi gli porterà l'aranciata e il pane tostato che arriverà fra un po' fra ha preso le uova al scrambled con il bacon ed è anche lui quello e io ho preso quella dell'anno scorso l'omelette con prosciutto e formaggio le patate e il pane tostato con latte e ho preso il caffè americano perché ogni tanto ci vuole e qui mi ricordavo che lo facevano bene infatti è buonissimo siamo ufficialmente alla Universal sì, me la fai veloce Harry Potter Harry Potter dobbiamo assolutamente andare ora guarda, siamo entrati un'ora prima che apro il parco perché non c'è nessuno no, c'è Zucco no, c'è Zucco Io sto già piangendo Si si attivano sei la bacchetta magica Ci siamo davvero Inizio a smettere di piangere E' un posto E' un posto Non stava registrando E' un posto E' un posto E' un posto Ok sono talmente emozionata Che continuo a schiacciare stop Quando voglio registrare E viceversa Andiamo da Ollivander Prima che ci sia troppo a coda Ollivander Eccola Un posto Sono tutte bacchette Sono tutte bacchette E' un posto E' un posto E' un posto Lo scuola E' un posto E' un posto E' un posto e qui c'è la bacchetta secondo me è quella che fa... non è che tu ne hai preso un tipo speciale bene allora si può visitare il castello ma è bellissimo questo è più vicino che mi infilano sopra lì ci sono le mandragole e le cuffie originali che hanno usato nel film oh stai pronta a farla fondo? siiii oh sì quidditch la nostra preferita scuola no one's better in statue Wiener non 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 scusami ma pensi che alcuni potrebbero stare a scuola per evitare il professor Bin's lecture se non sei mentale non che il soggetto non è fascinante questa foto che vuole che vuole? è bellissimo il castello è bellissimo il castello crescerà bene crescerà bene crescerà bene se mi faccio troppo è bella è bella è bella si si chocolate frog questa è la parte degli scherzi questa è la parte degli scherzi è 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